Appena concluso l'anno è tempo di bilanci per il CB Club Mattei che anche in questo 2021 oltre alle normali attività di protezione civile è stato impegnato durante l'emergenza sanitaria. È stato un altro anno non facile a causa della situazione Covid, ha spiegato il presidente Saverio Olivi. In questi mesi siamo sempre stati attivi per l'assistenza e coordinamento dei tamponi e anche alle vaccinazioni insieme ad altre cinque associazioni del territorio. Inoltre non sono mancati i momenti di formazione utili per formarsi ed aggiornarsi. Lo scorso anno è stato caratterizzato anche da situazioni di emergenza come il terremoto o gli interventi di inquinamento delle acque al porto dove la protezione civile si è sempre dimostrata all'altezza. Oltre a questo ci sono state diverse emergenze per quello che riguarda il blocco dei treni, con gli incendi abbiamo portato pasti, in pratica acqua e viveri nella stazione di Fano, di Pesero fino a Dancona, soccorso in mare, un ordigno bellico, il ponte Sasso e Metauriglia per quello che riguarda l'alluvione. In pratica siamo, diciamo che lavoriamo per questo. I numeri parlano chiaro, 6 gli obiettivi raggiunti, un open day associativo, 15 corsi di formazione, 9 convenzioni e protocolli di intesa con enti, 30 presenze per assistenza e sicurezza a gare ed eventi, 4 interventi di prevenzione, 2 esercitazioni e 6 emergenze svolte. Le convenzioni che noi abbiamo in essere sono le solite, il trasporto di disabili, anziani, si preserva in pratica lo stabile della caserma perché nessuno va dall'interno, oppure l'attraversamento dei bimbi a scuola, in pratica nell'attraversamento perdonale. Tutte queste convenzioni, riusciamo a trarne qualcosa alla fine dell'anno, non è sempre uguale. Questo ricavato che ci rimane lo investiamo tutto sulla formazione, sui mezzi per dare una risposta alla protezione civile. Speriamo di riuscirci, poi si può fare sempre di meglio, ma ce la mettiamo tutta. Altro numero importante sono le persone che ne fanno parte. 120 i soci iscritti al CB Club divisi in cucina, logistica, comunicazioni radio, segreteria, cinofili e soccorso in mare. Intanto si pensa ai prossimi obiettivi da raggiungere. Abbiamo intenzione di munirsi di un sistema di monitoraggio di videocamere qui all'interno della sede perché il Codmo comincia a essere una sede importante, non solo per noi ma per tutta la gente che ci gira. Avremo intenzione di prendere altri defibrillatori, poi abbiamo dei moduli abitativi che ci ha gentilmente donato la C-Engineering che all'interno vorremmo munirne almeno uno di una lavanderia mobile. Ma soprattutto l'appello che mi sento di fare per i cittadini se vogliono avvicinarsi, oltre all'attività di protezione civile che è abbastanza impegnativa, ma ci sono anche queste attività che ho accennato prima, per cui persone che sono libere, soprattutto anche per l'attraversamento alla mattina, che in pratica non hanno un lavoro, se vogliono passare delle ore in simpatia, in famiglia con altri volontari, qui c'è posto per tutti quanti.